Le diamo il benvenuto a l'ospedale reale dei minatori di San Rafael. Nella seconda metà del diciottésimo secolo si registrò una significativa riduzione della produzione di mercurio dalle miniere di Eguancablica, in Perù, rendendo necessario intensificare la produzione nelle miniere di Almadè per rifornire le miniere d'argento americane. La necessità di più mano d'opera per il lavoro in miniera facilitò l'arrivo di prigionieri forzati, schiavi e laboratori stagionali, e con loro un aumento del numero di malati e di epidemie. I lavori di costruzione dell'edificio iniziarono nel 1755 sotto il regno di Fernando VI e terminarono nel 1773 sotto il regno di Carlos Terzo, come si può vedere dai due stemi che appaiono sulla fachata principale. Una parte della sua costruzione è stata finanziata utilizzando i proventi ottenuti dal affitto degli immobili e dalle celebrazioni degli spettacoli taurini nel arena. L'ospedale entrò in funzione nel marzo del 1774, quando su richiesta del medico José Paresi Franquez e pacienti furono trasferiti dal ospedale della carità o della villa alle nuove corsie dell'ospedale reale dei minatori. Con 40 letti separati nelle corsie maschile e femminile, la media anuale dei ricoveri ospedalieri nei primiani superò le 800 persone e il numero di visite mediche superò le 14.000 unità. Nel corso della sua storia ha subito dei cambiamenti. Imprimò luogo la construzione della casa del capelano e della stanza per le persone con disabilità mentali e in seguito i lavori di drenaggio, cucina, pozzo, lavanderia e cortile, nonché l'ampliamento del cimitero e dell'ospedale. Nel 1794 furono create una stanza per i prigionieri e una cella sotterranea. All'inizio del XIX secolo il suo reddito si riduce a causa dello scarso contributo della miniera, proveniente dall'affitto delle case dell'arena, dalla vendita di medicina, dalle ricevute dei ricoveri ospedalieri e dalla vendita di acquavite. Questa situazione portò alla sua trasformazione nella seconda mità del XIX secolo in una casa di riposo per malati cronici e nel primo terzo del XX secolo diventò un ospedale per l'azienda Minas di Almaden, fino al 1980, quando l'assistenza medica venne trasferita al sito minerario. Dalla sua riabilitazione nel 2004, ospita l'archivio istorico delle miniere di Almaden, il museo dell'ospedale e il museo delle miniere. Adesso lasciamo questo posto, ma può continuare a conoscere altre storie di Almaden, postandosi al prossimo punto di interesse.